Tutti pensano che la pinza sia un prodotto ad alta digeribilità Mentre è dimostrato che nessuno riuscirà mai a mangiarne tre etti a stomaco vuoto Io ci riesco Lei riuscirebbe a mangiarne tre etti Ma io pure mezzo chilo non posso mangiare Vedrà che lei non riuscirà a mangiarne tre etti di pinza a stomaco vuoto Mi capirà, io non mangio da ieri E noi diciamo di no, non ci riesce no Io dico di sì E noi diciamo di no Quando vogliamo scommetterci che io ci riesco 300 euro 400 800 1000 1000 aggiudicato, scommessa aperta Andiamo E andiamo Ma regà, mi sa che avete perso Ma che, già abbiamo vinto Ma lei se li ricorda i termini della nostra scommessa? Tre etti di pinza a stomaco vuoto Ci sono arrivati a tre Ma lei lo sa quanto impiega un pezzettino di pinza a passare dalla bocca allo stomaco? Quando impiega? Sei secondi È dal primo pezzettino di pinza che lei ha mandato giù Che lei non è più a stomaco vuoto Ma lei non è più a spriscio di pinza a passare dalla bocca allo spirito di pinza a passare? No Ok So Ma lei non è più